Bologna, leader nella distribuzione di materiale elettrico L'azienda è specializzata come ingrosso di materiale elettrico civile e industriale. Offriamo una vasta gamma di apparecchi di illuminazione, citofonia e antennistica, oltre ad occuparci di climatizzatori e impianti satellitari. Grazie al costante aggiornamento e all'esperienza di oltre 30 anni, seleziona solo prodotti delle migliori marche che consegna in tutta la Sicilia.